Prendiamo la linea dall'Olimpico proprio mentre la Lazio sta attaccando sulla parte sinistra. Conce Sao viene anticipato a Zago che ridà slancio alla Roma di Cappello. Roma che si sta prodigando per ribaltare il risultato. Ricordiamo infatti che la Lazio si è portata di nuovo in vantaggio per 2-1 grazie alla splendida rovezzata di Salas. Mortacci tu a Salas, guarda che gli ha fatto. Che sei naziale. Bravo. Ma chi è successo? Scontri sui esperti? No, si stava a mangiare il suppli quando quel sorso del cielo ha infilato la palla e il crocio di i pali. Ancora la palla dei sieri è rimasta incastrata qua. Fabio, non mi fare così. Fabio, fatti forte, non mi abbandonare. Vedrai che pareggiamo. Non pensarci alle cose brutte. Non pensare a Roma invece. Pensare a Bruno Colti, a far cao. E sputero sto suppli di portacci tua. Salas, prova a andare lui. Uno contro uno. Cerca il fondo, Salas. Se pari Salas, buona Lazio, che gli facciamo i bossi a sta rometta. Forza, signore, coraggio. Se non mi spinge, allora è inutile. Ma io sto spingendo, dottore. Ma che c'entra le signora? È Sergio Costeisau che non spinge sulle facce, non mi fluidifica. Lei respira sempre, signore Bernezzotti. Uno, due, uno, due. Il pallone, dentro per Almeida, subito. Poi Neddiad. Ancora Neddiad. Pallaccio di Candela, su Ned. Senti di punizione per l'Alasio. Naturalmente, Milanovic, vicino al pallone, godiamo la punizione di Milano. E stai giù, signore, insoni, proprio adesso. Ma dottore. Oh, che palle pure lei. Ma non mi potrebbero da storpaola. E stia buona, sorella. Non lo vede che c'è una punizione di sinistra? Guardi che esce. Ma che esce? Entra, all'incrocio dei pali, un ricamino. Il bambino esce. Il bambino esce. Ho capito. Vediamo Milanovic, il pallone per Mediad, destro. No, il cordone. Ah già, e lo tagli, no? E con questo sono cinque. Ah, signore, ma mi doveva portare i cinque gemelli proprio durante il tempo. Mennomare che abbiamo finito. Ora vedo il secondo tempo di santa pace. Dottore, un'emergenza in pronto soccorso. Ah, lo sapete, no? No, è prima questa, è quella. Ma sto pallone non si può portare qua, che siamo organizzati. C'è stata la VDV. No, è trasportabile. Pure. Non so giù, però, dacci di punizione per la Roma. Di nervosismo. Partita molto difficile in questo momento per la Roma. I giocatori giallorossi abbagliano piuttosto nervosi. Non si preoccupi, adesso arriva il dottore. Ha sentito, famo via il dottore. Che si è incastrata la mozzarella. Se vedono pure i piselli, se vedono. Non ti sforzare, Raffa, non ti sforzare. Parla lento, parla piano. Fai come Zeman, non capisci un cazzo. Così, bravo. Che è successo? Soffoca me. Bene. E a questa da Roma? Ora è per sempre, dottore. Siamo tifosi della Roma. Siamo del comando. Nartro. Infermiera, chiami Marcucci, che romanista. Gli acquisto un nuovo tocco. Ma il dottor Marcucci è allo stadio. E chi se ne frega? Gli dice che c'è uno dei suoi conepregenza. Dottor Briecki, si ricordi che lei ha fatto il giuramento di Ippocrate? No, gli ha fatto il giuramento di Nesta. Se per me questo ci resta. Guardaci tua. Ma che sei la zia? Che non si sente? Non ne vedrà, non ne dicevano. Ho il suo sorvenista con questo cazzo che io ho la mano. Calcio di rigore, rigore per la Lazio. Fallo di Zago su Mancini, lanciato a prete. L'arbitro non ha dubbi e decreta la massima punizione. Mello sinto a che sono tre. Mello sinto a che sono tre. Mello sinto a che sono tre. Mello sinto a che sono forse ha visto un fuorigioco. L'arbitro va con... A Uccelli di Romo, si segnate sto rigore. Fa finta che ha inagrafe che ci hanno segnato a matita. ...di giocatori della Roma ad allontanarsi, ad abbandonare l'area. Dottore, presto, non respira! Forse lo stesso Mancini, noi invece è Salas. Lo perdiamo, lo perdiamo! Ma che perdiamo? Siamo due, uno, quasi tre. Dottore, mi dia una mano! ...di portare a dodici il suo bottino di reti in campionato. Se la la zia... ...di portare a dodici il suo pallone.